prani sulla sinistra ancora poi palla in verticale facile preda della difesa che allarga ora servizio centrale bordi e può raccogliere bordi si gira non vede un varco di luce davanti a sé allora ripassa dalla difesa con bertoldo bertoldo linea questa volta interessante scambia due può arrivare il primo tiro di gara con la conclusione a giro di bordi che non trova la porta si riprende a giocare dal fondo trani scambia adesso può avanzare cristiani ancora linea in verticale bello il pallone come è stato messo giù da campi che conclude come si è coordinato il numero 11 ha fatto tutto bene prima nell'aggiustarsi il pallone con lo stop a seguire poi conclusione affilata sul palo più lontano scheggia il palo campi pallone recuperato campi ad entrare in possesso campi con la conclusione mancina ribattuta dalla difesa ancora campi deve intervenire buona fede terza finta di andare profondo alla fine trova muraca mette a terra il numero 7 poi prova a eludere la pressione avversaria con il fisico muraca di fonziano linea verticale ancora perugia però a serrare le maglie di difesa ripartire con campi buone il suo suggerimento in verticale arriva la prima rete di gara con il servizio di campi per fratelli freddo il numero 10 contro buona fede a fare 1 a 0 per i suoi di fonziano con le mani deve volare falconi poi arriva anche la chiusura del primo tempo falconi all'ultimo a dir di no alla sortita offensiva del celsi occasione per ristabilire la parità da parte degli ospiti invece primo tempo allora che si chiude 1 a 0 per il perugia e allora secondo tempo al via con il celsi pronto a battere dal cerchio di centrocampo arriva il fischio si ricomincia muraca tiani non vuole forzare passa corto da un compagno cristiani verticalizzazione muraca capisce le intenzioni poi pallone velenoso falconi deve calciarle più lontano possibile anche preciso il suo servizio stava arrivando andreani a correggere in porta ma siamo già dall'altra parte mette a terra in maniera splendida muraca muraca se ne va con il tacco che giocata del numero 7 conclude sull'esterno della porta ma che azione questa di muraca ha fatto tutto bene non trova la rete calce di punizione perugia pronto a battere ora dall'auto di destra profondo il servizio rimbalza sul palo poi carambo la buona fede praticamente a colpo sicuro era arrivato fratelli ma buona fede con un balzo si porta da destra a sinistra e allontana la minaccia questa premia comunque c'è al si e andreani spedisce il più avanti possibile di ponziano si accentra e fa bene scambia con nobili che entra in possesso nobili con la suola a passare indietro muraca alleggerisce sulla destra di ponziano sterza ancora sul piede forte poi serie di rimpali attenzione alla conclusione questa volta se lo divora il gol il celsi con colasanto che si coordina ma non trova la porta a sinistra muraca bel lavoro in fase di impostazione poi trova di ponziano bertoldo sventaglia in avanti raccoglie la difesa del perugia prova adesso la squadra di casa a partire in contropiede con il tiro ancora orazzi che si è prestato alla porta e finora provvidenziale in due occasioni andreani sulla destra non può agganciare questo pallone si riprende martinelli e mette a terra e poi scambia con bertoldo muraca scende tra le linee la viene a giocare poi bordi bordi e sventaglia sulla destra correzione questa che premia di bonziano sul vertice destro e c'è la rete dell'uno pari celsi di ponziano vediamo se il celsi va a lungo così e raccoglie muraca con il petto nobili a dare una soluzione vicino a lui poi difesa perugia e serra le maglie di difesa di ponziano in avanti nobili se ne va con il petto nobili può servire al centro bel pallone muraca lascia scorrere in due poi a fare la finta ancora il tiro all'angolino sorpasso del celsi conclusione perfetta quella di cola santo che trova il 2 a 1 mettere a terra sorvegliato a vista dalla difesa la perde trani alleggerisce sull'esterno poi da dietro falconi per l'ultimo lancio della speranza campi deve saltare più in alto ma prima di lui martinelli e si chiude qui l'incontro vince il celsi per 2 a 1 perugia in vantaggio nel primo tempo poi celsi negli ultimi minuti a ribaltarla con di ponziano prima e poi la conclusione precisa di cola santo 2 a 1 grazie di averci seguito al prossimo incontro